Quest'oggi fare ne abbiamo uno di quelle proprio belle 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 da fare Ok spara Carrello Che finalmente hanno riabilitato e che sono sempre disabilitati All'idea via Airdrop Lo fai atterrare sopra il carrello E te lo porti a passeggio Sì Questa è la mia domanda La mia domanda è questa Con un pallone enorme Non lo so Come rispondi? Secondo me Qual è la cosa più probabile per te? Allora O rimane sopra e non succede nulla Sopra? In senso? Sopra il carrello appoggiando E non lo puoi portare in giro e tipo vai avanti e cade? Esatto Ok Oppure si spacca il carrello Questa è una delle cose più probabili Ok Secondo me Il carrello che si spacca lo trovo abbastanza probabile anche io Devo essere sincero Certo che è probabile Però Una probabilità che te lo puoi portare in giro Io la tengo davvero ben aperta Nel caso troviamo un bug assurdo Perché Beh ma anche se lo spacca non è che ci fa volare o roba del genere? Potrebbe essere Vediamo Non lo so Non lo so Allora c'è anche da dire che ogni volta che abbiamo provato queste challenge molto particolari Ok Molto spesso siamo rimasti sorpresi dal risultato O in negativo o in positivo Esatto Quindi potrebbe essere che comunque piuttosto che non succedere nulla qualcosa possa succedere No ma secondo me qualcosa deve succedere per forza Non credo che possa passare attraverso Il carrello comunque ha la sua fisica L'air drop ha la sua fisica Io non penso che possa passare attraverso No no Possare attraverso anche a me E se non passa attraverso qualcosa di casino succede Quindi stiamo a vedere Sono curiosissimo Allora player È un'altra tosta da fare Però sono contenta Player non è vero Ok Quindi Sa che mi faccio la discoteca con mia grande No Steph Ho preso un albero È scemo ragazzi Uffa Sto aspettando che qualcuno ti resti No perché io non vengo a arrestarti Non te lo meriti È venuto Dragon Che è più bello di te Povero Dragon Non l'avresti dovuto fare Grazie Guarda che capita Uh Steph Ho trovato l'arma nuova È una cesta aperta Non l'ho ancora provata Io l'avevo già provata È bella Tienila Tienila Ci sta Oh strabella È carina Cioè esteticamente strabella Adesso Ti conviene poi dopo Non adesso che gli fai venire un accidente a tutti Dopo prova a sparare un po' Per capire il ritmo con cui spara Il carrello quindi ce l'abbiamo già Beh sì Ma infatti ricordavo che qua c'è Lo sapevamo Lo sapevamo che qua c'è Esatto E il problema è che non c'è loot Non so te Come hai tenato? No a me non sta andando malissimo Ti dirò Ok No io Delino Io proprio Cioè la discoteca comunque manca ancora Prima che la finisca tutta quindi Io sono proprio povero Cioè proprio Non ho neanche le M16 Io non ho bianco No ho tutto bianco Che fa un po' Vado a chiedere per strada Gli M16 Vai Scusate qualcuno ha le M16 Qualcuno ha le M16 per me Trovate un vampa bianco Dai Ecco così la smettila Ce lo facciamo andare bene Ce lo facciamo andare bene Allora mi tiro le bende Stef se vieni da me ti do un caccia blu e un medico Eh Vedi Stef Arrivo Arrivo Ce l'abbiamo Ma il resto me l'ha buttato Sì Anche qua c'è un carrello Quindi avevo anche più di uno Forse l'ha portato Nat Non lo so se l'ha portato lui Ok mi tiro il medikit Mi prendo un altro po' di munizioni E io sono pronta alla partenza Double pump E caccia blu M16 verde Sono prontissimo Ok no a posto A chi devo uccidere Obiettivo adesso Abbiamo tutto quello che ci serve L'obiettivo adesso è trovare un bellissimo airdrop E killare player perché credo che non riusciremo ad aprire un airdrop senza killare Ok quello è ovvio però Ma Ma Ti è mollato Sì Per luttare il nulla per di più C'era assolutamente una cassa vuota Non si sta mai Magari c'era qualcosa di bello L'ho capito ma mi sono sentito proprio abbandonato per un attimo Mi è stata una brutta sensazione Ok Ma c'è un altro carrello Buono Ok Direi di luttare qua cavolo Ok Tattico verde mi piace A me servono materiali Anche a me Che no Amo che li hanno Sì da quando li hanno nerfati Di far me tutto il giorno Lanciarazzi Io Fare mi sa Allora Ta 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 Ok Ma dimmi te se le danno anche lanciarazzi E billano a 330 dentro la casa vicino a boschetto Sì ti ho ascoltato Fare madre c'è un casino So Hai capito dove è? Sì Ok hanno messo anche il segno Perfetto Sa che scendo E beh Aspetta Come si scende questo carrelli? Li vedi? Sì conservalo Minimo due hit gli ho dato Avevano shield Lo abbiamo Non sprecare troppi i colpi? No, solo per fargli cadere la struttura Tanto è tenuta da un Peccato Cavolo, non ho tutti questi colpi E questi hanno un sacco di materiali Già La situazione è sempre quella Dove sono? Non mi sembra abbiano fatto scale per fightare Nenca me Però ora non le vedo Vero? Tira un razzo per smuovere la situazione Vediamo che succede Sono scappati Ah se ne sono andati, sono scappati No, sì Sono scappati, quello è dragon, sì Aspetta Che noiosi Sì, 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 sono scappati Ma dimmi te sta gente Io non li capisco a che gioco giocano comunque Cioè è di sicuro un altro videogioco Su forne Airdrop Uh, uh, vero, vero, vero Dov'è? Visa, 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 visa Raga ho sentito un airdrop ma non lo vedo Che lo cercano Eccolo Lo vedo è lontanissimo Ce la faccio? Ma con la 345 Ah no ne hai visto un altro Tu ok È più vicino? Non lo so perché con la 345 era lontanissimo Io da qui non lo vedo Chi mi sta sparando? Ah Steph, occhio, dietro di noi Ok, no, non ce la faccio Player Arrivo Due player Sto tornando, sto tornando, occhio Siamo tutti un po' divisi Hanno provato a spararmi Due E sono lì nella collinetta che costruiscono Ok, ho visto dove hanno distrutto A 285, vero? Sì, sono là dove stanno fettando nate drama Eh no, c'è qualcuno anche alla nostra sinistra, Ferre, lo vedi? Ah sì, ok, ok, ok Cavolo, è pieno di gente Beh, siamo Tolto tutto lo shield Ok Però c'è un solo assist io Pure io Cos'è, cos'è? Le pistole nuove M16 blu Che prendo volentieri Ok Ok I colpi, 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 colpi Uh, la mitraglietta Mi servono, scusate Aspetta, anche questo mi servono Porca miseria Che succede? Sono morti tutti, quindi Più veloci di me Ecco che succede Sì Ok, devo recuperare il carrello Che noia avere il carrello in mezzo alle scatole Ah, lo so, Steph Mi fa giocare più lento Uh Non c'era bisogno E ti ho raggiunta, Ferre Mi hai rotto un timpano, Steph Non rompere il carrello Tranquilla Ok, i funghetti mi servono Fanno sempre comodo Pensavo volevi salire Wops Allora, dobbiamo aspettare Fare attenzione ai player Aspettare Andiamo verso il centro della zona Così è più probabile essere vicini alle arlo Esatto Andiamo Ok Siamo al centro Player Sì Ci devi far sprecare tutti i colpi Io un razzo glielo tiro Marte Ok Il razzo ha fatto la pena kill Sì, l'ho sentito Ho sentito Shpum Ok, a posto Ho bisogno di loot Era solo uno a posto Però gli airdrop Perché non le stanno a cascà? Non ne ho idea Perché? Ok, ho preso i colpi Ci siamo anche abbastanza al centro Eh, Ferre Eh, sta Non sono mai più scesi a airdrop da quei due iniziali Che erano comunque parecchio lontani Che erano molto lontani Ok, c'è altra gente Ok, e uno l'ha buttato giù Sì Ormai andiamo a killare Ovvio Poi ripensiamo agli airdrop Che dobbiamo fare Terminiamo il game E poi lo facciamo alla fine Certo Ok, ne ho visto uno Alla villa moderna Ok Eccolo, lo vedo Colpito Colpito Sono due, credo, vero? Uno Ne ho visto per certo Ma non sono sicura dell'altro Però forse sì Perché mi è sembrato in due piene diversi Di vedere il movimento Arrivo È sceso di lì Danato Ok, io sto sul tetto Cavolo se lagga sto tipo, eh Vabbè, devo lasciar perdere Non spreco materiali Tanto l'avete distrutto Eh, sono qui dentro tanto L'hanno ucciso Quindi a posto, dai Ne manca uno, eh Che non sapremo mai dov'è Eh già Ce n'è un altro comunque Eh, infatti Riendiamo verso la zona Che altrimenti perdiamo gli airdrop Vabbè Qui si spara Questo fatto Eh, perché ce n'è uno Sicuramente vigliacchissimo Nascosto Che spara Ovvio Che fatica Eh, Nat e Dragon l'hanno trovato Quindi penso che ci pensino loro, eh Ok Ok Io torno In zona Per L'airdrop Prima o poi ce la facciamo, secondo te? Spero Cioè, mi sembra strano davvero Che non stiamo beccando airdrop È davvero strana sta roba No, vabbè, capita Capita Ovviamente capita quando Vedo sparare, Steph Sopra di noi nel cielo Ho visto Vedi Sparare Cavolo Vedi proprio sopra di noi Ci hanno ucciso Dragon Eh, ho visto Uh, che casino che c'è Sopra la montagna L'hai visto? L'hai visto? E anche Alla nostra destra sud Eh, vabbè, buonanotte Si stanno accamperando in tutte le montagne Come fa sempre la gente Eccoli Eccolo, eccolo, eccolo Pranta? Sì Hai dopo qua Andiamo? Dobbiamo pensare a quello, sì Vai Dobbiamo Dobbiamo Abbiamo un solo obiettivo Un solo obiettivo, cavolo Scoprire che cavolo succede con sta roba Let's go Ok Dove sono? Non mi risegna ancora Dicca a me, non li vado Li senti? Cerca di non ricolpirmi Dicca a me Ho coperto un pochettino Quindi corri Vai, 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 vai Bigliacchi Ma che bigliacchi Sei tu che corri col carrello Ok, dai Ti abbiamo Per se lo distruggi L'aradrop mi cade in testa Dov'è? Dov'è? Qui Ok, vado Faccio un casino assurdo Però vado Sei pronto? Mi stanno provando a sparare Sì, adesso ti copriamo Aspetta Ma che è sta roba, Steph? Non lo so Cioè Cioè se lo levo Che succede? Prova Niente Cade Quindi niente È andato proprio male In tutti i sensi Adesso apriamolo Avrà qualcosa di bello Grazie Oh qui stavamo facendo esperimenti Eh, non è che stavamo qua Deludenti però Aggiunga Cioè io mi aspettavo Dai, non posso stare fermo un attimo Stavo parlando Però dai Ma era dietro di noi Eh sì Ma stavo pensando all'esperimento fatto Volevo non Volevo fare un piccolo recap Dove sei? In pratica Qui sotto Mi aspettavo Almeno che si spaccasse il carrello Non che rimanesse lì sopra Boom E basta Cioè che levi il carrello Poi non l'ho visto Nenche scendere piano piano L'airdrop Ho fatto tac Direttamente in terra Pum Un sasso Delusissimo Delusissimi Era proprio La possibilità peggiore Prenditi quell'oscillino Se ti serve Certo Mi iniziano a tirar razzi A me mi brucia Perché ci sono arrivati addosso I vigliacchi Certo Noi eravamo qui A fare gli esperimenti Eh vabbè Normale Normale Quando si pensa A mettere gli airdrops In carrelli Ok ci sono Riesce a tirare un missile Sì Vedi dov'è Sì C'è qualcun altro qua Sì 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 Mi sta facendo esplodere tutto Eh vabbè Eh vabbè Sono troppi ovunque Sono tantissimi Nasconditi Steph Beh ci siamo comunque ritrovati Capito Al centro Dell'azione Pronta Arriva Sì Vuoi vedere una cosa con stile Sì vai giocatelo ormai Mojimbo Eh Mojimbo Era un po' Buggato però Ti ho visto Buggato Incastrato Nel portaporto Va bene Dov'è Eh lì sono Sono bravini questi Eh Giacano bene Ok Ah la zona Già Che male Qua Niente Eh vabbè Eh vabbè Eh aveva nove kill Quest ed è quello che ha ucciso anche a me Quindi se la stavo giocando bene Dai Che casino che c'era Ci fermiamo così Delusissimi come sempre Perché ogni volta su Fortnite Queste cose non vanno un gran che Però vabbè Ci si è provato Magari c'era qualche bug Che hanno già fixato Niente lo sappiamo In ogni caso Ci fermiamo Qua sotto altri video Iscriviti al canale Campanellina Ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 ciao